tu metti giù la zona è bravo no 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 perché qua sotto poi è vuoto vedi queste le buttiamo sopra lì che poi ce le porteranno via adesso mi vedi che va blup cosa ti ho detto bastardo lo sapevo è che andavo dentro devo vuotare lo stivale subito aiuto spapi c'è lo stivale pieno sono già caduto dentro adesso cade anche il vito aiuto devo andare a casa a cambiarmi e si forse conviene che la spostiamo già e sotto lì ce le sabbie mobili lì sembra che pesa invece si li buttiamo di lì o andiamo lì facciamo ponte si butta il suo e uno li sistemà è lì profondo la cimitarra no lui c'è la cimitarra si si lui lo so che no non per